musica 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 ok, benvenuti ragazzi, io sono Agisus e oggi si ripete con me Starforce 2 Zerkerix Ninja ehi chi ha sfondato la porta per il labirinto della bermuda? ci vorrà un secolo per ripararla ti consiglio di non toccarla se non aspetti che sia riparata si romperà di nuovo ha racchiuso in seguito a provvedere nel lab berm autorità del cielo, per che il labirinto della bermuda sia oltre questa porta, quindi anche Sonia è dietro questa porta, chissà come possiamo fare per aprirla sembra che sia già stata rotta una volta questa serratura è messa proprio male forse è opera di Sonia provabile proviamo, ok, fatto grazie mega, andiamo dentro oh, la porta a pezzi davanti c'è un labirinto M, ti consiglio di non entrarci Sonia per il futuro stai bene ti ho cercato ovunque ora torniamo a casa Sonia? c'è qualcosa che non va Geo devi andartene subito da qui cosa stai dicendo Sonia? non cercherò in più ti prego non tornerò indietro Sonia! non avvicinarti vattene che ti succede? sono tutti in pensiero per te la press, zack, bud anch'io ovviamente non mi interessa vattene via ti ho detto no non voglio andarmene proprio adesso che ti ho trovata bene allora non mi hai scelta la scelta cosa? perché? Sonia noi siamo amici noi siamo amici Sonia te ne andresti se non fossimo più amici? benissimo facciamo così? cosa? ehi! la nostra brother band l'ha cancellata Sonia perché perché lo stai facendo? ti ho fatto arrabbiare per caso? cosa è successo? dimmelo attento ragazzo wow mi hai colpito in pieno mi dispiace mi hai colpito malamente in pieno hollow sei riuscito a stabilire la posizione di Wu? è senza dubbio il labirinto delle Bermuda ma quel luogo è molto particolare gli umani che si perdono al suo interno non vengono più ritrovati e al labirinto senza alcuna via di fuga non mi aspettavo tutte queste difficoltà non temete grande Vega le abilità di quella ragazza fanno proprio il caso nostro adesso scopriremo dove si trova Mu pensi sempre a tutto vero Hollow? ora dobbiamo solo ottenere il Manfo notizia da solo? ci vorrà ancora un po' prima che si svegli ci penserò io a recuperare il Manfo questo sarebbe? Hyde? si, ok Hyde il vostro fedele servitore strapperà il Manfo a Megaman vi prego grande Vega consentitemi di farlo Hyde si mia signora mi hai delusa molte volte grazie per la... un momento cosa? delusa? Megaman ha sventato ogni tuo singolo piano Hyde ecco perché sono delusa grande Vega sarà Hollow a occuparsi del Manfo così ho deciso come desiderate come desiderate perchè Sonia perchè? una mail con un silenzio tombale mai sentita un'e-mail della pressa visto che non rispondi le chiamate ho deciso di scriverti un'e-mail ho sentito che sei giù di morale quindi verrò a trovarti per vedere come stai non pensare che sia preoccupata per te voglio solo sapere se hai trovato Sonia pulisci per bene la tua stanza perchè sarò lì a momenti fammi indovinare non ti va di stare qui ehi 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 dove pensi di andare? ora non ho voglia di vedere nessuno e poi non saprei neanche cosa dirlo a proposito di Sonia ci risiamo sei tornato un ragazzo triste che mi da sui nervi immagino che io me ne voglio andare ma dove esattamente? dove credi di andare? seriamente non so dove devo andare fermata dall'autolus? si fermata dall'autolus dove stai andando? non ce lo dice neanche dove sta andando? non lo sappiamo non ce lo dice si rifiuta di rispondere alle domande più tardi? oh! ancora solo ah! ah! ok devo preoccuparmi quel tizio più incazzato che mai? sono alla solda spero proviamo un lato positivo shopping eh no io odio shopping sto morendo sotto casa un display aereo senti stanco? tirati su con un po' di Sonia Vita D io farò sempre il tifu per te Sonia davvero dovevo venire qui per guardare un cartellore? durino avanti andrà tutto per il meglio perchè adesso siamo legati ora so di non essere più sola a questo mondo è diventato notte ehi ragazzo che ti prende? stavo pensando il giorno in cui io sogno abbiamo forlato una brother band mi aveva detto che eravamo legati ma ora... per quanto ancora otterrai quel muso è stata la mia prima vera amica eri intrappolato in un mondo di solitudine e non sono uscito solo grazie a lei adesso invece... what? cos'è? un terremoto? no... pare siano arrivati i tuoi vecchi amici che intendi dire? oh... un parafulmine esattamente dove hai infilato quel parafulmine? ma cos'è? chi è quello? come è arrivato fin lì? brusì brusì apparite miei servitori cosa? what? i muriani? ah! un nuovo vostro! appaiono così i muriani? aiuto! seriamente? non pensavo apparissero così queste persone hanno bisogno di te megamen! forse lo dicevi in maniera un po' più ironica ma mi è venuta così purtroppo presto! vieni a salvarle! ci sono cinque muriani se non ho contato male sarà anche l'ultima cosa che farai quel tipo è della parte di solo e Hyde non sanno mai starsene tranquilli dobbiamo occuparsi subito di lui ragazzo io ora non ho molta voglia di combattere se vuoi restare l'imparato a piangerti addosso fai cure ma non quando ci sono delle persone in difficoltà hai capito? quello sta usando degli innocenti per arrivare a noi devi sconfiggerlo cambio di damage o stella viene avanti ok andiamo ho salvato spero di si ok fatemi salvare perché ora in poi salvo ogni combattimento ho deciso andiamo ok un altro qui andiamo eeeh eeeh tu? erano solo quattro? spero che non inizi un combattimento no ok ne manda ancora uno quindi uso un oggetto penso perché penso di averne sufficienza sembra che io rischi a spostare la freccia ok non esiglitelo ce l'ho fantastico salviamo ok ok andiamo ok eccolo il mio nome è hollow sono il fedele servitore della grande vega vega? sarebbe il tuo capo? megaman dammi il maufo appartiene a noi tu non puoi usarlo credi che voglio accedere a una persona che fa del male alla gente? di sicuro non usarmi a fin di bene farai come ti dico ho promesso di non ferirti in modo irreparabile hai promesso? what? lo senti anche tu? attento ragazzo avverto qualcosa di strano si è svegliato giusto in te? ciao solo solo sono qui per finirti molto bene solo lascio tutto nelle tue mani stai scherzando? ho 100 copi in meno e sono contro solo si potrebbe fare in teoria forse non si affolgeva da un'aura nera che scompariva? poi domanda ma cosa? c'è qualcosa di diverso non preoccuparti l'ultima volta l'abbiamo steso in due secondi sarà una passeggiata vedrai si ah cosa? eh? che succede ragazzo? ah che gara? quella barriera è? ora solo possiede il potere della prova indie e quindi può utilizzare la barriera EM la barriera EM non è lui a crearla la barriera appare per impedire a chiunque di avvicinarsi a lui amico o nemico umano o corpo EM chiunque solo ha rinunciato a qualsiasi legame con le altre persone c'è una barriera intorno al suo cuore e così ha ottenuto il potere assoluto non può avvicinarsi nessuno? sapevo che non era molto socievole ma si non pensavo sarebbe arrivato tanto attento ragazzo sono pronto te l'ho già detto amici brother band non mi servono queste sciocchezze e questo varierà in me nella prova quelle cose a cui tieni tanto ti rendono debole non dovresti affidarti a loro ho sacrificato tutto per dimostrartelo qui e subito ok ciao ciao se apri il cazzatino perchè non ti impesto un po' così ti dai una calmata ehm eh ragazzi no 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 la barriera ma non lo colpisco proprio non è colpa mia proprio non va giù il veneno perlomeno ti farà qualcosa no risposta negativa ah vuoi subire almeno un danno e farmi contento? no no lui disse o lo... o lo può fare qualcosa? cioè scusa eh phantom per phantom signor phantom mmm non ti faccio il tempo ehm io ci sto provando il giro eh qualcuno vuole porre fine a questa battaglia ehm Capcom se la tua intenzione non fammi vincere ci stai riuscendo ok no ce l'ho fatta invece mi attacchino ad un effetto questo nemico è molto tosto aah cos'è 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 un tost adesso mi immagino tutta la vita solo che è un tost è tutto inutile non posso credere che lui sei finito what? che è successo? aah cos'è sono a echo? sono a echo net? sei sveglio finalmente Sonia mi hai salvato tu? si grazie allora hai deciso di tornare con noi? non credo che mi abbiano vista ma non posso garantirti di poterlo fare di nuovo ma cos'è? dimmi cosa ti è successo Sonia devi dirmelo io mi sono unita a loro a loro? a vega i suoi non puoi dire sul serio magari ora devo obbedire agli ordini di Hollow come puoi? ti hanno fatto lo lavaggio del cervello? ti stanno minacciando? dimmelo no niente del genere ho scelto di aiutarti l'hai scelto tu? aspetta un secondo se ho capito bene quello che hai detto stai dicendo che non sei più dalla nostra parte ragazzina al nostro prossimo incontro faremo i conti d'accordo? fai pure come credi Art mi senti? ora siamo nemici? mi dispiace ci sono cose che non posso dirti Sonia addio perchè lei puoi farlo? io invece devo muovermi come un cretino per l'onda cielo perchè? dimmelo è meglio restare qui per il momento forza andiamo a casa ok ragazzi ma per oggi mi fermo qua quindi se il video è piaciuto se il video è piaciuto mettete un piacere iscrivetevi e mamma mia quanto è tosto veramente tost il uomo solo e che cosa sta succedendo a Sonia? tutte domande che avranno una risposta nei prossimi episodi quindi bella ragazzi